Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Bartolini, di Narte Bartò, sono qui alla Galleria Il Melograno e queste sono due mie opere, si chiama Incontro, un dittico, sono qui in occasione per la festa di San Valentino, per la collettiva di San Valentino. Come sono fatte queste opere, questo in particolare ma neanche altre qui dentro, come sono fatte? Che tecnica usi? Allora, io uso questa fatta con acrilico e cera di candele, che uso spesso, uso su tutti i miei quadri, la cera di candele. E come ti è venuta questa idea? Questa idea è venuta qualche anno fa, dopo aver soffiato sulle candeline del compleanno, e praticamente mi è venuta l'idea di colare queste candele su una tela, che poi ho chiamato Collata di Desideri. Allora, questo qui è un altro quadro, si chiama Percorso Rosso e è fatto con la cera di candele, e anche su questo quadro qua ho collato i miei desideri. Hai un altro quadro esposto? Sì. Questo. Come si intitola? Si, 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 si chiama Sentite la vita, e anche su questo quadro ho messo la cera di candele. Come dai i titoli ai tuoi quadri? Che cosa? A seconda di quello che mi trasmettono. Quindi dopo che l'hai realizzati? Sì, dopo che l'hai realizzati, dove hai già il titolo del quadro? Grazie a tutti! Grazie a te. Facci vedere come fai? L'impronta digitale del pollice. Guarda che firma personalizzata. Sì, molto carina, molto personalizzata. Che poi è lo stesso successo di un bigliettino. Sì, e poi sono quadri che non si possono riprodurre, i falsi non si possono fare, c'è l'impronta digitale. C'è l'impronta digitale, bellissima anche, non l'hai fatto per questo, però addirittura. Qui vedo anche una tua, se non sbaglio, che c'è l'impronta della mano. Sì, sì. C'è anche l'impronta della mano. Beh, sono molto personali, eh? Ah sì. Direi, sono proprio personali. Complimenti. Grazie. Grazie. Grazie.